Ecco, oggi mi vedete in tenuta completamente estiva e in linea con un argomento di cui vi voglio parlare. La doccia. Che c'entra la doccia con la legge? Beh, ve lo spiego subito. Sapete che quando un dipendente si dà malato dal lavoro o deve rimanere a casa per la visita fiscale da parte del medico dell'Inps, chi non si rende reperibile perde in tutto o in parte il diritto al trattamento economico proprio durante l'assenza dal lavoro. Ebbene, qua la particolarità. La Cassazione ha sempre detto che il lavoratore a casa deve fare in modo di aprire la porta al medico dell'Inps. Non importa se sta dormendo, se è sordo, se il citofono non funziona, se non può camminare, se ha la febbre alta, se si è assentato un attimo per andare in soffitta o in garage. Deve usare tutti gli accorgimenti per aprire al medico. In passato la stessa corte aveva detto che il fatto di essere sotto la doccia non è una valida giustificazione per non aprire al medico. Quindi uno si deve attrezzare per sentire il campanello, anche con familiari conviventi. Oggi però la corte ci ha ripensato. Forse la puzza di ascelle è arrivata sino alle aule dei giudici che hanno detto «lavatevi, lavatevi». Quindi da oggi il dipendente che non sente il campanello perché sta facendo la doccia è giustificato se non apre al medico dell'Inps, il che ci suggerisce ancora una volta un sistema per aggirare la legge e la reperibilità alla visita fiscale. Questa è la legge.